A campionato ormai concluso in casa Catania è già tempo di pensare a cosa fare del futuro. I rossazzurri hanno terminato la stagione solo 72 ore fa, ma dato il risultato non esaltante non si può pensare a riposare, ma anzi si devono trovare subito le energie e le motivazioni per lavorare solo in vista della nuova annata, che sembra lontana ma deve essere inevitabilmente pianificata subito. Della stagione alle spalle c'è pochissimo da prendere di buono, forse nulla, ma è chiaro che bisogna cercare di sfruttarla nel migliore dei modi per capire come non ripetere tutti gli errori che sono stati fatti anche quest'anno. Da un lato quindi tanto vale dare subito un colpo di spugna, e questo è proprio quello che hanno fatto anche i giocatori che hanno dato l'immediato rompete le righe già al termine della trasferta di Carpi, che quindi ha decretato di fatto l'ultimo momento di quest'anno. Lo stesso vale per Marco Lin, che venere di scorso ha vissuto gli ultimi 90 minuti della sua avventura in rosso-azzurro, aprendo di fatto la bagarre tra chi è in corsa per diventare il nuovo allenatore del Catania. La sensazione è che servirà qualche giorno perché si vuole monitorare la posizione di Pasquale Marino cercando di capire se il Vicenza riuscirà ad andare in Serie A. Lo stesso vale poi per De Zerbi, ancora legato al Foggia, ma non è escluso che alla fine si possa inserire anche qualcun altro. Nel frattempo si valuterà anche chi resterà inorganico, ma c'è la forte sensazione che gran parte del blocco che ha giocato il girone di ritorno alla fine verrà confermato, e che tra questi si dovrà solo capire il destino di Gilleri, e ora da Casto.